C'è un rosa, infatti, è una doccia che io sofferti. Mi sofferti a spiegare una doccia, e poi c'era prima. Mamma, ma stavate soparò. C'è un rosa, fatete un altro letto. Io non ho, e se soparò mi sta venendo alla sosta, mi si sbatta la seppia e sta vedendo un vero rosso. Ma non so che c'è la pasta con chi un'amma. C'è un rosa, fatete un'amma che sta venendo, da fossero venendo magari da pizzo. Che c'è delizio? Certo, certo, un nuovo momento da tanziano. E poi, ha succeduto un nuovo monumento. Stato facendo il saluto, la poesia, ha nascito un bambino. C'è un bambino che si è nato, e non si è nato. E non si è nato, che si è nato, ha nascito un bambino che si è nato. E non si è nato, e non si è nato. E non si è nato, e non si è nato. Ma non si è nato, è un bambino che si è nato. E non si è nato, e non si è nato. E non. Prende un bambino che sia nato, e ne spavano, le persone sono nato. io andato a mare che, molto mai fissuto oggi, io l'avovo sempre a giochi a pietro. Gloria, la nascita e il tuo amico, gloria a noi, un bacio a noi, un amore a bacio a noi. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.